Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Yeah! Se il 2020 verrà ricordato come l'anno della pandemia, il 2021 sarà caratterizzato dalla speranza, grazie alla diffusione del vaccino creato in tempi record. Partita in tutta Italia, infatti, la corsa delle campagne vaccinali e a tal proposito, portavoce delle persone con disabilità, l'osservatorio cittadino di Cava dei Tirreni, che comprende ben 13 associazioni per la disabilità, ha inviato una missiva al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, per chiedere informazioni certe sui tempi e le modalità di somministrazione dei vaccini anti-Covid-19. Pur ringraziando le istituzioni per il lavoro e l'impegno profuso nella battaglia contro il coronavirus, nella lettera l'osservatorio sottolinea la necessità assoluta che siano stabilite chiaramente le tempistiche e le modalità della vaccinazione, tenendo ben presente le drammatiche difficoltà delle persone con disabilità e conseguentemente chi se ne prende cura. Grazie a tutti.